Le chiedo appunto per continuare a tendere questi fili, quale domanda lascerebbe all'onorevole Quartapella? Sull'ambiente o sulla democrazia? Allora, diciamo, quale ruolo, per riprendere la domanda che è stata fatta prima su come portare anche gli altri paesi verso il fatto di dover rispondere ai challenge climatici e ambientali, quale ruolo può avere l'Italia e l'Europa per fare in modo infatti che questo Green Deal non sia solo un'iniziativa europea ma che ci permetta di assicurarci che i nostri cambiamenti non portino al problema al di fuori delle nostre frontiere ma che insieme con gli altri paesi e penso soprattutto al continente di cui facciamo parte in realtà geograficamente che è l'Africa per assicurarci che lavoriamo insieme con gli altri continenti verso un futuro sostenibile. Sostanzialmente una domanda di stampo ambientale, cos'è che dobbiamo fare perché le cose non restino solo sulla carta ma veramente diventino un cambiamento reale. Secondo me in questo mondo in cui abbiamo la fortuna di vivere, anche se stiamo vivendo un periodo molto complicato, c'è una cosa che dobbiamo capire tutti quanti, sia chi fa politica sia chi è cittadino. Per ottenere dei grandi cambiamenti ci vuole la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Non basta scrivere delle leggi, non basta scrivere degli impegni europei, non basta prendere delle decisioni per quanto difficili, come è successo tra giovedì e venerdì al Consiglio europeo dove ci si è dati l'obiettivo di arrivare al taglio del 55% delle emissioni entro il 2030, quindi praticamente domani. Perché queste cose poi diventino realtà, ci vuole la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Quindi bisogna creare un rapporto di cittadinanza nuovo in cui si coinvolgono i cittadini nei cambiamenti e si discutono i modi migliori perché i cittadini prendano parte a questi cambiamenti. Questo è un ragionamento insomma di una cittadinanza nuova più consapevole, più partecipativa, più interattiva e dobbiamo tutti quanti noi modificare il modo in cui ci facciamo protagonisti appunto di questi cambiamenti.